It's hard to breathe, but that's alright Come detto dal titolo, ho fatto un Toz 193, 100 di intesa e 93 di valutazione, con ben 7 Toz all'interno Allora, la squadra è composta da Allison Toz 97 in porta, poi Robertson 94 del Liverpool, sempre Toz Poi Foyt 84, Van Dijk Toz 99 e Alexander Arnold 95, Toz Mentre a centrocampo De Bruyne 99, Toz, Fernandinho 91, Toz ed Eriksen 89, If E poi l'attacco Manet 97, Toz, Son 88, carta candidata al Toz E poi Salah 90, oro rara E in panchina Messi 95, Champions card Sergio Buschez 93, sempre Toz David Di Silva, oro 88, Ederson 88, sempre oro Poi Marquinhos del PSG 87, carta candidata al Toti E poi Vardy 86, Potm della Premier League E infine Ramsey 85, per appunto ad arrivare a 193 di intesa e valutazione E con ben 7 Toz al suo interno Credo, ma anche come vi sono, ho visto nei video su Youtube Che è il record italiano, 7 Toz in un draft Fatemi sapere qui sotto se mi sbaglio, se avete visto qualcuno che ha trovato più Toz E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace, ditemi nei commenti la vostra Iscrivetevi al canale, inoltre vi invito a passare dalla pagina Instagram Maglie Calcio Top, per magliette da calcio davvero ottime a bassissimo prezzo E se utilizzerete il codice GEO01, avrete subito il 15% di sconto Link in descrizione E detto questo, ringrazio per aver visto il video Qui da GZNORGAMES è tutto Ciao Ciao